musica ragazzi abbiamo preso un prodigoso e vi consiglio pure questo la nincella, la signorina l'ha strofinato un sabbiettino c'è qualcosa di unico, poi ci sono le mandorle per fiadette le mandorle di argan belle cose, miele all'arancia buono, buono, ok come bisogna fare questo trucco, le amande? le amande devi mangiare una ogni mattina per 10 giorni poi ti fermi e poi ti cominci quanto fermi? perdi molto colesterolo no, ma quanto mi fermo? sei per il diabete? si, sei per il diabete ma come si arriva dopo 10 giorni? per un mese si arriva un mese? no facciamo 10 giorni dopo dopo vabbè eh, così non mi fai perchè palla molto veloce ma io penso che tu ti prendi una al giorno per sempre fino a quando finiscono le confezioni noi facciamo per 10 giorni poi fermiamo per un mese poi fermiamo poi fermiamo 10 giorni per un mese per un mese per un mese che è un sogno che è un sogno per un mese per un mese per un mese Grazie a tutti. 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 Onore proprio di piante, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.